Grazie a tutti. Ancora una volta di droga, amnesia, 13 kg di sballo, operazione all'alba di ieri alle porte del capoluogo, 5 persone arrestate dopo lo scambio. Intercettato dai carabinieri un carico di marijuana allucinogena arrivato dalla Spagna. 13,5 kg pronti per essere immessi nel mercato pontino degli stupefacenti. I carabinieri del nucleo investigativo hanno intercettato questo carico di marijuana allucinogena presentandosi all'appuntamento che i trafficanti, due spagnoli e un terra cinese trapiantato da Alicante, avevano dato a due ragazzi del capoluogo in una piazzola di sosta lungo la pontina. La sostanza era nascosta all'interno di quattro scaldabagni caricate a bordo di un furgone proveniente dalla Spagna. In casa di uno dei ragazzi gli investigatori hanno trovato anche 5 kg di ascice e 500 g di amnesia già suddivisa in ovuli. Mentre proseguono le indagini per ricostruire il traffico i militari dell'arma sono impegnati in una complessa opera di sensibilizzazione tra i giovani per informarli del pericolo che deriva dal consumo di questo tipo di erba trattata chimicamente. E oltre a questa notizia di cronaca sulla prima pagina del quotidiano di Latina troviamo l'astral che si è giudicata la nuova sosta, parliamo quindi di strisce blu. Ma ancora la questione che tanto sta facendo discutere in queste ultime ore è una strada per Hitler. Le parole di Coluzzi che hanno scosso l'intero consiglio una provocazione o meno che sia la dichiarazione del consigliere Giuseppe Coluzzi ieri mattina in consiglio ha fatto il giro del paese. Si parlava di toponomastica della possibilità di intitolare una strada a Giorgio Almirante, fosse per me intitolerei una strada a Hitler, un errore, una provocazione che però ha sconvolto il consiglio comunale che insieme al sindaco di Giorgi ha preso le distanze da quanto dichiarato in aula dal consigliere di maggioranza. Una dichiarazione che ha fatto molto discutere che abbiamo rivisto anche sulla prima pagina del tempo e su tanti altri quotidiani e su cui troviamo ancora dichiarazioni e prese di posizione sul web Alessandro. Sì Giulia, infatti sono state davvero molteplici le reazioni a queste parole del consigliere, addirittura troviamo traccia di quanto accaduto anche sul Corriere della Sera Online. Una strada per Giorgio Almirante e perché no una statua per Hitler fa discutere l'affermazione di Giuseppe Coluzzi, esponente della maggioranza in consiglio comunale. Voci addirittura sono trapelate sulle dimissioni imminenti del sindaco di Giorgi. E allora un consiglio comunale infiammato, un esponente della maggioranza, dichiaratosi favorevole ad intitolare una strada a Giorgio Almirante, fa sapere in aula che darebbe il suo benestare anche ad una statua per il nazista Adolf Hitler. Il consiglio divide la maggioranza con esiti disastrosi ed il sindaco di Giorgi sarebbe pronto persino alle dimissioni. Un altro consigliere dice Mussolini ha fatto gli italiani, statua ad Hitler per non dimenticare. Hanno dell'incredibile le parole pronunciate da Giuseppe Coluzzi, esponente di Forza Italia e medico di professione, in occasione della discussione di una mozione per intitolare una strada al leader Missino Giorgio Almirante, dopo che già l'amministrazione provinciale gli ha dedicato una rotatoria nella zona della Marina di Latina. Le parole sono state queste. Fosse per me intitolerei una statua anche a Hitler. È importante non dimenticare quanto accaduto. Sono queste quindi le parole pronunciate dal consigliere comunale azzurro, che in prima battuta sono passate quasi inosservate in aula. Ma è bastato qualche minuto per realizzare quanto abberrante sia stata quella frase che poi Coluzzi ha voluto minimizzare. È stata una provocazione. È insorta quindi la minoranza. È stato superato ogni limite. È una dichiarazione grave che offende Latina e i suoi cittadini, afferma il capogruppo del PD Alessandro Cozzolino, oltre che coloro che quella storia e quelle persecuzioni le hanno vissute sulla propria pelle o su quella dei propri cari. Esiste la libertà di espressione, ma qui siamo andati molto oltre il risultato politico e poi imbarazzante un intero consiglio bloccato sulla vicenda almirante. Dichiarazioni ampiamente oltre ogni limite. La maggioranza che vuole compiere un atto di forza, votando la mozione, non avendo i numeri. Nel pomeriggio arrivano le scuse rocambolesche di Coluzzi. Se ho potuto ferire qualcuno con la frase utilizzata questa mattina in consiglio comunale contenente il riferimento ad Hitler, ci tengo francamente a scusarmi. Non sono né razzista né nazista, né tantomeno mai avuto alcun apprezzamento umano nei confronti di chi ha scritto la più brutta pagina della nostra storia. Si trattava di una provocazione, volevo semplicemente sottolineare a detto, che trovo inutile una discussione di ore per la semplice intitolazione di una strada. La nostra storia è stata scritta da chi ha fatto del bene e da chi ha fatto del male. Io so distinguere tra quanti hanno combattuto per la libertà e quanti l'hanno negata. Distinguiamo tra il diritto all'oblio e il dovere della memoria. Solo in questo modo impediremo che gli errori e gli orrori del passato possano ripetersi. Ebbene, al momento del vuoto di un consiglio comunale disastroso, non è mancata la chicca del consigliere Maurizio Patarini, che ha sottolineato in maniera positiva Benito Mussolini e che ha fatto gli italiani, è mancato il numero legale anche grazie alla defezione di alcuni esponenti della maggioranza. Questione che ha mandato su tutte le furie il sindaco Giovanni Di Giorgi, che ha minacciato di dimettersi. La polemica impazza sui social network e sui siti di informazione locale, dove si legge che sarebbero pronte le interrogazioni parlamentari indirizzate al Viminale se il sindaco non prenderà le distanze da tali imbalazzanti affermazioni. E il sindaco Di Giorgi, di fatto, tramite comunicato stampa, le distanze da queste dichiarazioni le ha prese ufficialmente. Vedremo ora cosa accadrà nelle prossime ore. Un altro consiglio comunale dove è scoppiata la bagarra è quello di Sperlonga, dove c'è stata una mozione antiprefetto contro la richiesta di sospensione del sindaco, appunto per salvare il sindaco. Quindi scoppia la bagarra in consiglio comunale anche a Sperlonga. Ancora la politica Bartolomeo in corsa per la provincia, il primo cittadino di Formia, spiazza il Partito Democratico. E sempre da questa prima pagina un fucile per l'agguato, arrestati padre e figlio a Sabotino, coincidenza per l'intimidazione al Lido. Ancora l'arma ha lo stesso calibro di quella utilizzata contro Giassai. Un'altra notizia di cronaca, travolto in bicicletta dall'autobus muore un 87enne e invece a Sonnino e a Camalla vengono negate sia le esequie cattoliche che islamiche. In ultimo l'allarme prostituzione sulla Pontina, una crociata che vede l'intento comune di Sabaudia, Terracina, San Felice e Circeo che hanno scritto al prefetto di Latina proprio per cercare di sensibilizzare, di richiedere nel più breve tempo possibile un'attività di controllo dato l'alto tasso di prostituzione che c'è sulla via Pontina, sulla strada regionale 148 nelle zone dei loro comuni. Andando all'interno vediamo qualche altra notizia che riguarda però Ardea, Pomezia e le zone più vicine a noi. Le attività dei ladri pendolari, il gruppo è stato sgominato dalla polizia di Roma e Terni dopo diversi mesi di indagine, 15 gli arresti totali, furti, spaccio di droga, sfruttamento della prostituzione così agiva la banda di albanesi che sono stati appunto intercettati, che avevano messo a segno un elevatissimo numero di colpi tra Terni e Roma. Sono stati tutti assicurati alla giustizia. Ed ancora scoperto un maxi alloggio per extracomunitari a Torsa Lorenzo, effettuati controlli da parte della municipale. Nelle scorse ore la polizia di Ardea ha messo in atto questi controlli all'interno di un appartamento della zona a cui i vigili avrebbero scoperto la presenza di un maxi alloggio per cittadini extracomunitari presumibilmente d'origine indiana con ben 16 posti letto. Tra l'altro, stando a quanto trapelato nella giornata di ieri, la municipale avrebbe riscontrato anche la presenza di scarse condizioni igienico-sanitarie con materassi disposti in vari angoli. In più sarebbe stata trovata anche della merce raccolta in sacchi, forse contraffatta. Per questo sarebbero scattati ulteriori controlli oltre all'identificazione di alcuni dei presenti. Se fosse confermata l'ipotesi abusivismo, si tratterebbe ancora una volta dell'ennesima operazione volta alla tutela del commercio regolare. sul territorio di Ardea che la polizia locale in questa estate che sta avvolgendo al termine ha messo in piedi sul territorio del litorale ardeatino. Parlando sempre di litorale a Nettuno, smaltimento rifiuti, un'interrogazione da parte di Carlo Euffemi e ancora marciapiedi impossibile, i disagi per chi va al mare a ridosso del centro storico. Nella foto si vede lo stato dei marciapiedi di via della resistenza a Nettuno, uno stato quantomeno non ottimale. In programma invece ad Anzio, la Sagra della Tellina, un appuntamento previsto per questo weekend a partire da domani fino al 7 di settembre. Un appuntamento che inizia a richiamare sempre più golosi e amanti della buona cucina. Lasciando il litorale ci occupiamo ora di Pomezia con una visita del presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, all'IRBM. Una notizia che ritroviamo, Alessandro, anche sul web. Sì, la troviamo per la precisione sul sito di Repubblica e vediamo anche un'immagine di questa visita, una visita istituzionale allo stabilimento dell'IRBM Science Park di Pomezia per il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, e per il suo vice, Massimiliano Smeriglio. Nei 20.000 metri quadrati di laboratori specializzati in analisi e produzione di vaccini, a 25 chilometri da Roma, opera la Joint Venture Advent dell'IRBM con Okairos, che ha prodotto il vaccino sperimentale anti-ebola, recentemente approvato dalla Food and Drug Administration. Quest'ultima ha quindi dato il via lo scorso 28 agosto ai trials clinici nell'uomo e negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Il team della società mista Italo-Svizzera Okairos, guidato da Riccardo Cortesi, ha lavorato alla creazione di una nuova tecnologia, un ibrido di terapia genica e immunoterapia, per scoprire nuovi vaccini contro malattie per le quali i metodi tradizionali hanno fallito. Il progetto del nuovo vaccino sperimentale anti-ebola, già testato in alcuni modelli animali, ha prodotto risultati decisamente positivi. È stato chiesto quindi di procedere alla preparazione dei primi lotti clinici di vaccino presso i laboratori di Pomezia per iniziare la sperimentazione sui soggetti sani volontari. Quello contro l'ebola è il vaccino più difficile da realizzare, il nostro ha funzionato benissimo, i dati scientifici saranno pubblicati domenica e non posso dire nulla a tal proposito, ha detto Cortese. Noi lavorando su questo progetto ci siamo trovati ad essere gli unici, o fra i pochi al mondo, pronti a poter far fronte a questa emergenza imprevista. Dunque noi siamo in grado di produrre questo vaccino, lo stiamo facendo e sarà distribuito nelle sedi opportune. Dentro questi laboratori di Pomezia, nel Lazio, una vera e propria fabbrica di futuro, dopo gli anni di ricerca da parte di scienziati straordinari, è stato inventato il vaccino anti-ebola, commentato con entusiasmo Zingaretti. Voglio fare i complimenti al professor Cortese e a tutta la sua equip che hanno fatto un lavoro importantissimo, giungendo a un'innovazione di carattere planetario. Lo stabilimento IRBM è una vera e propria cittadella indipendente, è stato spiegato con un proprio inceneritore per i rifiuti e elettricità fornita da pannelli solari. In passato, nei laboratori di Pomezia, sono stati già sviluppati i prodotti farmaceutici per contrastare l'HIV e l'epatite C. E quello che state vedendo è proprio un video di oggi di questo giro all'interno degli IRBM con le parole del governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. E con questa notizia noi ci fermiamo, il tempo a nostra disposizione per oggi è terminato Giulia. Sì, e come di consueto, grazie Alessandro per gli aggiornamenti dal web e grazie a tutti voi per averci seguiti. L'appuntamento è per domani, arrivederci. Arrivederci.